E chi sono io? Mi chiamo Berardo D'Angreta ma non me non è che conta tanto mi sono quasi ascoltato pure perché la capa mia sta peccata qua dentro questa cazzetta di ferro andando a questo comune chi sono? sono uno che è combattuto contro il francese ci sono combattuto sette anni fa e pure questa volta la prima volta è da buona e questa volta no a scelta guerra quando si vince e quando si perde mi sono scappato ma mi hanno fatto la spia perché i miei sannucci stanno la gente che è tanto buona nel cielo per quattrini per quattrini mi hanno fatto acchiappare e mi hanno beccato all'acqua con la ciocca mia l'hanno messa dentro una cazzetta di ferro e l'hanno fatto girare tutti i paesi sportati dai soldati per quattrini e alla fine mi hanno visto qua agli paesi miei per mettere paura a tutti quanti gli altri i chili che mi hanno fatto la spia per quattrini i quattrini alla fine non gli avuto perché gli hanno fatto pagare la spesa che hanno fatto a portarmi a girare per tutti quanti i paesi buona è stata ora io sto qua e guardo guarda questa che era la terra mia e guarda come l'hanno fatto a ripentare ora che gli giovani non ci stanno più perché o sanno morti con mamma o sanno scappati o li hanno portati chissà dove e vedo questi poveri vecchi che hanno rimasto mesi sciangati che seccano queste montagne qui trovano qualcosa da mangiare fino alla terra alla penteca la terra è più scarsa perché chissà la gente nostra la gente che si mette tanto a bolla la terra adducece qualcosa se l'hanno fregato tutti quanti essi io sto qua e guardo e chi guarda e chi ci pensa sono fatto buono e combattono non fa niente che mi sono morti se rinascesse non lo facesse una roba grazie grazie grazie